ciao amici benvenuti e bentornati sempre qui sul nostro canale questa sera siamo venuti a fare bella passeggiata notturna appena smesso di nevicare si sta gelando ma tanta tanta roba volevo provare l'osmo pocket di notte a modo con i nuovi fari con le nuove cose che sto testando diciamo e direi che si comporta molto bene soprattutto nella location guardate qua stupendo ma siamo in montagna siamo circa 600 metri come dicevo appena smesso di nevicare da poco da mezz'oretta che poi qualcosina sta ancora precipitando e o e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.